Nicolò Ugazzi, debutto qui alla Core Arena per te, quando avevi giocato alla prima di campionato hai vinto a BN, hai fatto due punti, oggi invece hai portato a Portura, tre punti. Sì, me l'hanno detto anche i compagni, sono molto contento anche per aver dato una mano ai miei compagni appunto e niente, continuare così, dobbiamo continuare così, giocare solidi in difesa e anche mettere sotto pressione l'avversario in zona offensiva. Tu venivi nella settimana particolare, Lugano veniva da due brutte sconfitte nei due giorni consecutivi a Ginevra avevano preso tanti gol, avevano vinto anche soltanto 2-1, è una cosa importante. Sì, è molto importante per la fiducia, per le emozioni che abbiamo avuto anche, come ho detto prima abbiamo avuto una sorta di, ci siamo riuniti ieri dopo il ritorno da Ginevra e abbiamo proprio voluto riunirci per ritrovare questa fiducia in noi stessi, per ritrovare il nostro gioco riorganizzarci su tutto e per arrivare pronti per questa partita e l'abbiamo fatto. Era una partita molto importante perché da voi si era a tre punti da voi adesso li avevano cacciati a sei punti con due partite in meno e questo è molto importante. Sì, è molto importante, vogliamo solo giocare al massimo per ottenere più punti possibili alla fine penso che la squadra abbia fatto un ottimo lavoro oggi e credo sia veramente meritato questi tre punti di oggi. Senti, che effetto ti ha fatto con chi hai giocato in lì? Ti avevo visto all'inizio qualche cambio, poi sempre di più, poi effettivamente quando, soprattutto nel finale quando purtroppo Lugano ha avuto giocare parecchie minuti con l'Amo in meno, qualche cambio in meno. Sì, è naturale, devo cominciare con le basi, ho cominciato appunto, ho cercato di veramente dare il massimo del primo cambio, quindi avere veramente dei buon feeling, delle buone silenziazioni che poi ho portato nei vari cambi successivi. Visto le partite molto ravvicinate, giocare martedì a Zurigo e venerdì contro lo Zugo e oltretutto sfruttando purtroppo le infortuni di Riva e dello straniero, forse ci sarà ancora più spazio anche per te? Sì, anch'io l'ho saputo ieri in base alla partita che ho guardato a casa e mi hanno detto che c'era spazio per me, lo voglio sfruttare al massimo, voglio far vedere che davvero ho delle buone chance per mostrare agli allenatori, alla squadra che posso dare una buona mano al team. Ultima cosa, che effetto ti fa giocare qui? Ti sarebbe piaciuto chiaramente giocare con 4-5 mila persone in più? Certo, sì, sicuramente è tutto un altro effetto, ma devo dire che comunque alle prime partite da Novellino dico che comunque lo senti questa buona pressione e mi piace, fa tanto questo. Ti facciamo tanti complimenti visto che sei diventato un po' il portafortura del Lugano. Grazie mille. Grazie a te, complimenti.